Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Giornate all'insegna della variabilità con qualche precipitazione sulla Liguria. Il dettaglio oggi martedì 9 aprile progressivo aumento della copertura nuvolosa con possibili attività cumuliforme che potrà dar luogo a debole e isolati rovesci in particolare nelle zone interne. Per tutta la giornata ancora possibili locali schiarite in particolare a Ponente, venti deboli meridionali con possibili brezze, mare poco mosso o mosso, temperature massime in aumento lungo la costa tra 15 e 18 gradi, nelle zone interne tonno 15-16 gradi. Domani mercoledì 10 aprile molto nuvoloso coperto per nubi sia nei bassi strati che in quota. Possibili rovesci nell'interno più probabili nelle ore centrali in locale estensione verso la costa non si escludono locali schiarite in particolare al mattino e in serata. Venti inizialmente deboli dei quadranti meridionali con frequenti brezze nel pomeriggio in rotazione da sud ovest e parziale intensificazione a Ponente, mare poco mosso o mosso in aumento fino a generalmente mosso, temperature minime in aumento lungo la costa intorno a 10-11 gradi nelle zone interne tra 4 e 7 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 14 e 17 gradi nelle zone interne tra 13 e 15 gradi. Dopodomani giovedì 11 aprile nuvolosità diffusa con precipitazioni al mattino sui versanti padani in locale estensione al resto della regione nelle ore centrali. Possibili isolati rovescio temporali di debole e moderata intensità. Venti deboli meridionali in regime di brezze in rotazione nel corso della giornata dai quadranti settentrionali, mare mosso in calo fino a poco mosso a Ponente, temperature minime in aumento lungo la costa intorno a 11-12 gradi, nell'interno tra 5 e 8 gradi, massime stazionarie lungo la costa tra 13 e 16 gradi nelle zone interne tra 11 e 14 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina facebook di Arpal. A risentirci!